A Betania la casa di Lazzaro, Marta e Maria era un po' la casa di Gesù. Quando Gesù doveva andare a Gerusalemme faceva stazione a Betania e era ospite della casa di Lazzaro. E in questa occasione c'è una scena che viene riportata dal Vangelo molto importante. Cioè Marta comincia a darsi da fare per preparare il pranzo e addirittura si lamenta con il Signore Gesù che Maria se ne sta coccolata davanti a Gesù e ascolta la conferenza e lei non arriva a preparare il pranzo. E Gesù tutta risposta Marta, Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Avrà detto a Maria e ora mangi se io non cucino. Beh va bene. Allora qual è il problema? Marta aveva torto a lamentarsi. No, aveva pienamente ragione. E se c'era un torto tutta più era di Maria che si era coccolata ai piedi di Gesù e di Gesù che si era messa a sedere, cioè seduto come un maestro che fa scuola ad una discepola che si chiama Maria. Questa scena era completamente proibita dalla legge ebraica. Cioè perché? Perché nella legge ebraica era contemplato che la donna non aveva diritto di accesso, di accedere alla cultura, alla istruzione. Gesù tiene catechesi, tiene ammaestramento a Maria, quindi tanto Maria e tanto Gesù sono dei pubblici peccatori. Quindi in questa visita di Gesù alla casa di Marta e di Lazzaro e di Maria praticamente è stata una visita scantalosa. Non sappiamo, perché il Vangelo non lo dice, che cosa dissero gli altri, gli ebrei, a vedere Gesù che teneva la lezione a Maria. Non lo sappiamo. È certo che Gesù non si è fatto condizionare da quell'oro che assistevano a questa scena e continua l'insegnamento perché ha voluto mettere il principio che poi è arrivato grazie a Dio anche a noi, che anche la donna ha diritto all'istruzione, ha diritto alla cultura. Noi tanti passi dei Vangeli magari li vediamo sempre in un determinato modo, però è bello notare anche questo, come Gesù è stato un rivoluzionario per essere a favore dell'uomo, del poverello e della donna. Viene Gesù a conoscenza dell'ansia che hanno gli apostoli, i discepoli per seguire Gesù, hanno lasciato le famiglie e è tutto allegro e contento. All'inizio, ma poi sono cominciati a venire fuori gli interrogativi, ma come andrà a finire? Abbiamo lasciato tutto e se Gesù se ne va in cielo e se queste voci di catturare Gesù e metterla a morte si avverano, che fine faremo? Abbiamo lasciato tutto e le famiglie non so come vanno avanti. Gesù si accorge di questa preoccupazione e cerca di dissipare queste nubi nei suoi discepoli e diragli coraggio e sicurezza. E di fatti cita un passo che viene riportato nel Vangelo. Guardate, dice agli apostoli, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Quindi perché vi preoccupate? Messaggio di grande consolazione. Abbiamo un Padre in cielo che pensa a noi molto più che ai fiori del campo. E' chiaro che non è possibile che i genitori si affidano tutti a Dio e non curano la responsabilità paterna badando ai propri figli, badando anche a portare un certo progresso della famiglia, a badare l'educazione morale e spirituale dei figli. Sono responsabilità gravissime. E' vero che Dio dà da mangiare anche agli uccelli, però nel rapporto con l'uomo ha dato all'uomo la capacità di supplire la sua azione verso gli uccelli. Siamo noi, investiti da Dio, che dobbiamo curare la creazione, curare gli interessi degli uomini e riportare il mondo al paradiso terrestre.